benvenuti nel mondo della valle dei fiori oggi parliamo di fioriture qui abbiamo tutto un piccolo assortimento di fioriture che si piantano in questo periodo e fioriscono sino ai geli abbiamo le gerbere le daglie abbiamo tutti i vari colori delle margherite le begogne doppie semplici abbiamo il platicodum bianco rosa e blu abbiamo le nuove guinea abbiamo anche dei piccoli vasi a tre colori chi vuole avere molto colorato sono tutte piante che basta mettere nel vaso più grande e dare un po d'acqua continuano a fiorire proprio sino all'inverno fino a quando ci sono i geli oltretutto guardate questa sul finia che che abbiamo questi vasi del 10 14 sino al vaso 25 tutti con questi fiori che se la mettete sul balcone abbelliscono tutte le vostre case abbiamo i bougainville che stanno solo e coccente abbiamo il calistemo quella quel fiore lì rosso abbiamo tutte le margherite gialle europsis che fiorisce e non muoio all'inverno e poi abbiamo anche una novità che abbiamo tutti questi cappelli abbiamo tutte le impantus abbiamo le potuni abbiamo le fucsie abbiamo le gerbere come detto prima ecco lì vedete quello lì col fiore rosso il calistemo che è una spazzola rossa piccoli media grandi sino alti un metro e poi abbiamo quella margherita gialla lì che è l'europsis è una delle margherite resistente anche al freddo che fiorisce in continuazione oggi abbiamo presentato un po di tutte queste cose poi nel specifico andremo a darvi altre spiegazioni noi siamo sempre qui presenti tutti i giorni della settimana perciò chi vuole avere delle spiegazioni in più può andare sul nostro sito per trovare tutte le modalità per poter coltivare queste piante